Premetto che questo video lo caricherò circa 3 minuti prima che la partita finisca Quindi in caso il risultato dovesse cambiare Tanto non cambierebbe nulla a livello di qualificazione e cose varie Quindi vi aggiungerò comunque nei commenti E benvenuti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi faremo un breve post partita di questa partita In cui Bayern Monaco vince 2-1 contro la Lazio Il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League A Milo la Lazio non ha preso l'imbarcata Solo questo c'è da salvare E c'è un Bayern Monaco che l'ha sbloccata su rigore netto di Lewandowski Murici non lo so voleva sposarlo Altro po' lo stava abbracciando come se fosse Non lo so Non lo so vabbè Lasciamo stare E quindi segna su rigore Lewandowski che non sbaglia mai Poi segna Ciupo Moting proprio subito dopo che entra al posto di Lewandowski E segna il gol del 2-0 Ciupo Moting dalla panchina Ma poi segna anche dalla panchina Marco Parolo Quindi due cambi azzeccati da due mister Segna Parolo che riapre la partita ma nulla di fatto La partita finisce così Un risultato totale di 6-2 Quindi clamorosa Bombardata Oggi non l'ha subita la Lazio Però l'ha andata sì 4-1 in casa Quindi che ha fatto il risultato ancora più tondo Quindi sono sei gol complessivi Che sono veramente tanti Però comunque hanno giocato contro un gran Bayern Monaco Che oggi non è che ha Non voleva farne tanti Anzi ha somministrato il vantaggio Tanto la partita ormai Era già finita Quindi raga per questo video è tutto Possiamo dire che la Lazio ci ha provato A testa alta Esce contro A testa alta un parolone In questa partita a testa alta Ma l'ha andata no ovviamente Però vabbè esce la Lazio Quindi tutte le italiane fuori dalla Champions Atalanta Inter Juve E Lazio La Lazio è l'ultima ad uscire E speriamo bene Nell'italiano in Europa Forza Roma e forza Milan E che dire Per questo video è tutto Un bel like e iscrizione A campanella A noi ci vediamo in un prossimo video Un saluto e ciao